Le nature impicchiate e i disagi sulle strade, anche a bassa quota nel versante etneo dell'isola. Queste immagini arrivano dall'autostrada A18 che collega Catania a Messina. A causa del ghiaccio sull'asfalto, un tir si è ribaltato all'altezza di Giarre, nel Catanese. Fortunatamente nessun altro mezzo è stato coinvolto nell'incidente e l'unico ferito lieve è il conducente del mezzo pesante. Nelle immagini le operazioni di ripristino degli operatori ANAS. Per qualche ora il tratto autostradale fra Giarre e Fiume Freddo di Sicilia è rimasto chiuso. E nevica da ore nei comuni più vicini al vulcano. Qui siamo a Randazzo, dove da ieri mattina un manto di neve ricopre completamente il paese. A Bronte continua a nevicare da ore. Stesso scenario a Sant'Alfio e Castel di Iudica. A causa del ghiaccio una ventina di turisti è rimasta bloccata nella zona del Rifugio Sapienza, esattamente a Piano Vetore. Grazie al soccorso alpino altri turisti sono riusciti ad arrivare nella caserma delle Fiamme Gialle di Nicolosi. Ma la neve ha colto di sorpresa anche paesi a bassa quota. Qui siamo a Giarre. Guardate le immagini che riprendono una nevicata che rimarrà forse nella memoria dei cittadini del posto. Neve anche nelle spiagge del versante Ionico. Uno spettacolo più unico che è raro. Sulle strade statali del versante Tneo c'è l'obbligo di catene a bordo. Disaggia anche nei collegamenti aerei. Un volo diretto a Catania è stato dirottato a Palermo, un altro alla mezzia terme. Domani intanto riaprono gli impianti. Le società Star e Funivè dell'Etna fanno sapere che gli impianti torneranno operativi da domani mattina, tempo permettendo. Oggi infatti sono stati chiusi a causa di una vera e propria bufera di neve.